La scommessa sull'amore familiare è coraggiosa, ci vuole coraggio per sposarsi. Vediamo tanti giovani che non hanno il coraggio di sposarsi, no? E tante volte qualche mamma mi dice, ma faccia qualcosa, parli a mio figlio che non si sposa, ha 37 anni. Ma signora, non estirare le camicie, incomincia lei a mandarlo un po' via, no? Che esca del nido. Perché l'amore familiare anche spinge i figli a volare, spinge i figli, li insegna a volare e spinge a volare. Non è possessivo, è di libertà sempre. E poi nei momenti difficili, nelle crisi, in tutte le famiglie ne hanno le crisi, per favore, non prendere la strada facile. Torno da mamma, no. Andate avanti, con questa scommessa coraggiosa.